Sono stati agevolati molto più celermente chi fa le stagioni estive, la stagionalità chi lavora nell'ambito della stagionalità sono state erogate queste 600 euro più la Naspi che sarebbe la vecchia disoccupazione che percepiscono mentre noi che abbiamo un contratto a tempo indeterminato siamo in stand by marzo, aprile, siamo quasi prossimi a maggio e l'Inps ancora non è erogato un euro quando poteva essere molto più snella l'erogazione e il pagamento perché potevano anticipare i datori di lavoro e poi chiedere il rimborso all'Inps oppure pagare molto più celermente, con tempistiche più celeri quindi quei soldi che ha promesso il governo io sinceramente non li ho visti date che si sono andate sempre posticipando, si è parlato del 15 aprile, poi il 26 aprile adesso metà maggio e noi siamo qui ad aspettare, intanto le spese arrivano, le utenze ad esempio alcuni colleghi mi hanno detto che in Trentino Alto Adige si paga solo le spese di distribuzione, quindi le spese fisse, mentre la corrente, l'acqua, il consumo effettivo la regione ha deciso per due mesi per questa emergenza di non chiedere nessun pagamento e gli argomenti possono essere molteplici, diciamo che ritornando al discorso del turismo bisogna davvero pianificare, innanzitutto far venire le persone almeno per salvare questa estate concentrandosi su pacchetti estivi e un turismo di sicurezza perché le persone avranno difficoltà all'inizio a recarsi in un locale quindi dobbiamo mandare un messaggio di sicurezza e dobbiamo allo stesso tempo essere pronti